5, 94 e 6 ma vi segnalo subito anche tutti i modi per poterci ascoltare ma anche per vedere questa trasmissione perché siamo in diretta Facebook su Radio Sound 95 ma anche Spazio Tesla c'è la possibilità di ascoltarci in streaming o anche scaricando l'app Radio Sound 95 se non riuscite ad ascoltare l'FM la trasmissione It From Beat è una trasmissione che si occupa di fisica e medicina quantistica che nasce anche da un congresso importante organizzato da Spazio Tesla che è Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce questa sera però insieme ad Alberto Negri e a Laura Groppi di Spazio Tesla intanto buonasera ragazzi ciao, buonasera, buonasera buonasera a tutti parliamo di un argomento molto interessante perché parliamo di Ettore Maiorana ma parliamo di una energia proibita, di una macchina insomma che a quanto pare lui avrebbe suggerito ascoltateci, sarà sicuramente una trasmissione molto interessante potete chiamarci al 0523 590 590 mandare un messaggio al 333 75 75 246 e potete mandare, no direi le mail a questo punto, no perché forse non facciamo in tempo a vederle quindi i whatsapp sia sempre attraverso anche vocali al 333 75 75 246 allora parliamo di... entriamo subito nell'argomento anche perché dobbiamo subito dire è chiaro che Ettore Maiorana è sicuramente un fisico molto noto però insomma è giusto anche dire che è un grande fisico accademico italiano che operò principalmente come teorico della fisica all'interno del gruppo di fisici noto come i ragazzi di via Panisperna scomparve nel 1938 e da qui tutta una serie di ipotesi ce ne sono ben otto una è quella del suicidio c'è quella del fatto che si sia ritirato in convento della fuga in Argentina l'assunzione dell'identità di Tommaso Lipari un barbone particolarmente colto di Mazzara del Vallo poi si parla di rapimento e possibile uccisione perpetrata dallo spionaggio alleato la fuga in Germania collaborazione con i nazisti addirittura e poi il rifugio in Argentina la fuga o rapimento in Urs morte per malattia un anno dopo l'ha scomparso ho dimenticato qualcosa? credo di no ma abbiamo detto di tutto e di più recentemente c'è stato anche un convegno proprio su Maiorana organizzato da Spazio Tesla e da lì sono diciamo emerse molte ipotesi però questa sera noi non ci vogliamo soffermare sulle ipotesi della scomparsa di Ettore Maiorana ma questa sera seguiremo forse più la pista del convento perché la pista del convento ci porta ad un'evoluzione molto interessante ci porta a raccontarvi una storia una storia di due personaggi e di una macchina quindi di Ettore Maiorana di Rolando Pelizza e della macchina che utilizza l'antimateria che è in grado di annichilire riscaldare e trasmutare la materia e che produrrebbe energia praticamente a costo zero lo faremo con degli ospiti davvero eccezionali in studio e abbiamo collegato con noi Rino Di Stefano che se è già collegato lo salutiamo buonasera oh buonasera ciao Rino giornalista e scrittore e tra l'altro lui ha fatto delle approfondite ricerche su Ettore Maiorana e anche sulla macchina di Maiorana abbiamo invece in studio Alfredo Ravelli che è biografo di Rolando Pelizza e Giorgio Mentegari che invece è l'editore dei tre libri che sono stati scritti appunto da Ravelli allora cominciamo con questa storia buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera cominciamo con questa storia siamo nel 1938 quando Maiorana scompare e secondo l'ipotesi raccontata anche da Leonardo Sciascia perché lui che per primo ha ipotizzato il fatto che sia andato nel convento nel suo saggio La scomparsa di Maiorana Leonardo Sciascia dice che appunto Maiorana se ne va in convento nella Certosa di Serra San Bruno in Calabria ed è qui che Rolando, no forse non qui, comunque in un convento Rolando Pelizza forse non si sa se è quello o non è quello perché si parla di un altro convento Rolando Pelizza non ha mai parlato del luogo ha parlato del convento ma senza mai specificare dove perché lui aveva avuto un impegno che ha sempre mantenuto tra l'altro nelle lettere di Maiorana che parleremo dopo Maiorana si congratulerà con lui dicendo hai mantenuto fede all'impegno avuti e non hai fatto il nome del posto dove io mi trovavo, non dire niente al riguardo Noi l'abbiamo saputo da un'altra parte quindi insomma è Leonardo Sciascia che ipotizza appunto questo luogo che si trova in Calabria e qui c'è l'incontro con Rolando Pelizza ma chi è Rolando Pelizza? Rolando Pelizza in sintesi innanzitutto attualmente Rolando Pelizza ha una certa età quasi 81 anni, il 26 di febbraio comprerà 81 anni è un bresciano come me, siamo un po' coetanei siamo coetanei e per l'altro anche parenti un po' la lontana al riguardo E' cugino? Cugino, sì Rolando Pelizza, quando ho conosciuto Maron Pelizza era un giovane bresciano i familiari avevano una buona attività nel campo delle calzature erano all'avanguardia scusate, allora lui attorno ai 20 anni ha avuto la possibilità e ci ha raccontato di incontrare Majorano premetto una cosa ho sentito parlare qui di tante ipotesi sono tutte ipotesi queste che sono state parlate non suffragate da nessun documento e da nessuna certezza premetto questo perché perché la storia che racconteremo stasera porta dei documenti, delle certezze che sono state messe sul piatto per cui qualcuno se vuole avere dei documenti se vuole avere delle certezze riguardo alla fine o cosa ha fatto Majorana può trovare qui dei documenti che possono avvallare quello che noi stiamo sostenendo possiamo far intervenire subito allora Rino Di Stefano visto che parliamo già delle ipotesi allora cosa ne pensa lei dottor Rino Di Stefano che questa del convento sia quella valorata da prove a differenza di altre che invece non lo sono dunque quella del convento mi sembra l'ipotesi più plausibile è anche la più probabile l'unica cosa riguarda il discorso dell'eremo di Serra San Bruno dunque da Chiari a Serra San Bruno ci sono esattamente 1301 km sono tanti sono tanti perché così a occhio direi una quindicina di ore di viaggio in auto e Pelizza sostiene che è andato almeno un centinaio di volte tra il 58 e i primi anni 70 Rino scusami un attimino e mi intervengo subito perché vi ho chiarito una cosa Pelizza ha mai detto nessuna volta che lui è andato un centinaio di volte no no a me l'ha detto privatamente allora bene a me personalmente non ha mai detto che è andato un centinaio di volte a me ha detto che è andato lui è andato per 4 anni dal 58 al 62 parecchie volte in questo convento dove ha incontrato Majorana questo è quello che ha detto a me è che io ho documentato sì sì ma infatti io ti do atto che nel tuo libro si espone tutta quanta la storia di Rolando in modo assolutamente corretto quindi non c'è nessun disaccordo per quanto riguarda le volte io gli ho chiesto più o meno quante volte lui mi ha detto un centinaio comunque non è rilevante un centinaio di volte può essere anche andato devo pensare però che sono passati 40 anni quasi 50 beh ma direi che non è un elemento poi così importante no io ci tengo perché voglio essere preciso no ma anche io voglio essere preciso il discorso è che sono comunque qualora fosse veramente Serra San Bruno perché purtroppo non abbiamo nessuna prova a riguardo però dottor Di Stefano se mi permette proprio lei mi pare ha scritto che nel 1984 Papa Giovanni Paolo II in una visita proprio alla Certosa di Serra San Bruno affermò che era frequentata da personaggi illustri che avevano soggiornato tra questi aveva fatto il nome di Ettore Majorana sì esatto esatto lo disse e i frati arrivarono fino a smentirlo non sentiamo voglio avvisare la regia non riusciamo a sentire la voce sentiamo te e non lui mi sentite? sì adesso sì adesso sì ok allora i frati arrivarono persino a smentire il Papa ma comunque non è quello non è quello che volevo dire io quello che volevo dire è che la distanza è tale che si potrebbe ipotizzare ovviamente ci vogliono le prove per poter dire una cosa di questo genere però insomma sarebbero abbastanza abbastanza probabili che il convento fosse molto ma molto molto più vicino al nord che non al sud e che soltanto in un secondo tempo la persona di Ettore Majorana sarebbe stata trasferita nel convento di Sara San Bruno io di queste cose non ne ho mai parlato lo sto dicendo adesso per la prima volta però in effetti diciamo che c'è una strada che è percorribile per arrivare a questa conclusione per quello che riguarda il discorso Majorana se permette adesso vorrei tornare invece alla figura di Rolando Pelizza perché stavamo appunto parlando di spiegare un po' brevemente chi è lui ha 20 anni si trova quindi a venire in contatto con Ettore Majorana ma in quel momento lui non sa che di avere a che fare con Ettore Majorana ha a che fare con un frate che gli dice cosa? Stando a quello che lui mi ha raccontato che poi ho scritto nei libri nei libri lui ha conosciuto questa persona ha avuto subito una empatia una simpatia non lo puntiamo così proprio si sono trovati d'accordo tra l'altro stando anche le lettere poi parleremo anche queste benedette lettere che per me sono un punto fondamentale perché noi rispetto agli altri alle altre ipotesi portiamo delle fotografie e delle lettere fotografie di Majorana dopo la sua scomparsa avvallate dalle perizie da parte da parte di periti del tribunale e delle lettere anche quelle avvallate da una grafologa perito del tribunale in base a quello che lui dice cosa ha fatto? Ha incontrato Majorana Majorana ha avuto questa è stata una simpatia un'empatia tra loro due in un certo momento Majorana ha capito che persona che aveva avanti e sembra sembra gli ha dato anche per stragiare la possibilità di una certa collaborazione che poi dopo c'è stata gli ha dato da risolvere un problema matematico gli ha dato un problema matematico dicendo c'è questo problema da risolvere portalo a casa con calma poi fammelo sapere Rolando si è fermato lì in quel convento che io non so ancora che convento sia perché non lo so ancora per cui non so se è Serra San Bruno o anche l'ipotesi di Rino che può stare in piedi ma non posso dire se è vero o falsa perché non ho elementi riguardo sia un altro convento al nord che sarebbe molto più facile è un'ipotesi anche questa la sua cosa ha fatto lui Rolando? Sui due piedi si è tirato in parte e ha risolto il problema c'è infatti una lettera di Majorana in cui dice se riesco a trovare il punto ben preciso adesso dice a un certo momento mi ricordo tu sei qui con me anche perché t'ho assaggiato t'ho dato un problema da risolvere tu sui due piedi hai fatto una cosa che neanch'io forse non avendo quelle conoscenze l'avevi potuto fare perfino ho detto questa cosa a Majorana questo qui eccolo qui quindi l'estratto dal libro sì diciamo che il libro è questo qua questo è il libro il segreto di Majorana che io ho scritto uno di tre libri in un certo momento porto una lettera periziata che dicendo che di Majorana da Periti che dice fidati dei calcoli che puoi fare anche tu gli parla perché visto che grazie ai miei insegnamenti le tue conoscenze in matematica sono sufficientemente avanzate mi ricordo sempre del primo test che ti proposi e che tu risolvesti in così breve tempo che forse neppure io avrei potuto eguagliarti essendo privo di qualsiasi conoscimento così come eri tu questo tuo successo mi convince della tua capacità e quindi eccoci qua uso tu eccetera questa è è una lettera datata questa è datata 1965 quindi stiamo parlando di molti anni dopo dopo la sua fama questa è io sulla base di questi documenti periziati ma Rolando che studi aveva? cioè che che io sappia e lui ha sempre detto Rolando ha avuto studi della quinta elementare quindi era un talento matematico naturale naturale tanto è vero che viene anche questo talento viene riconosciuto anche da Tralamazza da Tralamazza perché in questo momento è un ingegnere informatico è un ingegnere informatico è un ingegnere informatico sarebbe meglio spiegare appunto di chi si parla perché altrimenti chi ci ascolta ha l'impressione che sì lo so sentiamo Rino puoi fare tu un attimo un cappello sull'ingegnere Tralamazza per gentilezza dunque si tratta del professor Carlo Tralamazza è docente di informatica a Bellinzona in Svizzera è stato uno dei maggiori collaboratori di Rolando Pelizza ha collaborato con lui per circa vent'anni gli è diventato amico molto ma molto amico e gli ha dato una mano una grossa mano nel suo lavoro secondo me il pregio maggiore del professor Tralamazza è stato quello di analizzare 116 mila dati che un giorno Rolando Pelizza gli aveva affidato e con il metodo di Monte Carlo un metodo inventato da Enrico Fermi che poi è un metodo come dire in inglese random cioè a caso cioè studiando questi dati con una certa casualità è venuto fuori che il parametro il logaritmo di riferimento di questi dati era 271 invece di 314 che cosa significa? 314 è il logaritmo di riferimento delle cose inerti cioè di tutto ciò che noi possiamo chiamare tecnologico 271 invece è il numero di nepero cioè il numero naturale ed è stranissimo che una macchina perché i dati si riferivano alla macchina avesse come dire una sua vitalità sembra strano a dirsi però è quello che venne fuori dai suoi calcoli quindi stiamo parlando di qualcosa fino a quel momento ma sconosciuto ma anche oggi quasi ancora fantascientifico perlomeno è impossibile è impossibile oggi come oggi è considerato impossibile così come del resto se andiamo ad analizzare le quattro fasi della macchina lei ne aveva accennate 3 c'è l'ultima anche la traslazione della materia sono una più incredibile dell'altra volevo parlare anche siccome mi ha chiesto la capacità di Rolando con la matematica porto la testimonianza proprio di Tralamazza perché c'è stato un anno praticamente attorno agli anni prima degli anni 1988 89 che Rolando ha passato un anno assieme a Tralamazza Tralamazza era informatico docente di informatica sviluppava per Rolando Perizzas dietro le sue indicazioni 30-40 30-40 come si chiama programmi al giorno lavoravano dalla mattina fino alle 11 di sera naturalmente il giorno dopo questa è la testimonianza di Tralamazza Rolando si presentava da Tralamazza e diceva guarda questo programma che tu mi hai fatto ieri contiene questo sbaglio che è stato sbaglio cioè al mattino Rolando andava da Tralamazza e gli faceva vedere tanto per dire la capacità che aveva lui nella matematica pur non conoscendo niente di informatica a riguardo un altro episodio che porta a Tralamazza che è la faccenda del Tralamazza aveva all'università partecipava a un corso gli aveva dato un programma di risolvere un problema quella del salto al cavallo fare in modo che il cavallo tocchi tutte le caselle senza passare mai sulla seconda un'altra volta sulla medesima casella e lui Tralamazza dice che ha impiegato tutta la notte però la mattina si è presentato al professore e gli ha fatto vedere che aveva risolto questo problema parlando con Rolando gli ha detto anche guarda che io ho fatto questo Rolando ma io sono capace a fartelo così dice che Rolando nell'arco di mezz'ora gli ha fatto con la penna senza computer perché tra la mazza di notte aveva lavorato con computer gli ha fatto vedere come poteva risolvere il problema del cavallo che tocca tutte le caselle senza passare mai sull'altra casella ma Pelizza non ha mai avuto desiderio magari di completare gli studi di prendere una laurea assolutamente Pelizza ha avuto una vita talmente travagliata è talmente cosa che poi parleremo di quello io vorrei anche cominciare con qualche telefonata quindi chiedo alla regia se ci chiama Luca Boccardini che aveva richiesto di poter intervenire e intanto io farai intervenire ancora Rino Di Stefano magari lui riesce anche a darci un quadro anche in termini temporali interessanti nel frattempo tanto per completare questo discorso a cosa si riferisce in generale insomma quello che stavamo dicendo sulla Pelizza che poi incontra in contra Majorana poi insomma c'è tutto questo sviluppo c'è anche l'incontro con questo professore e che cosa succede poi? io vorrei fare una piccola premessa io sono amico di Rolando Pelizza perché io ho iniziato a interessarmi di questa storia nel 2009 ho anche una data precisa 3 gennaio 2009 quando ho ricevuto un'email da parte di uno sconosciuto che mi ha voluto portare un dossier e il mio interesse verso questa storia è iniziato da lì quindi le dico con gli anni sono diventato amico di Pelizza lo stimo è quello che si dice veramente una gran brava persona perché ha un comportamento etico nei confronti del prossimo è una persona moralmente ineccepibile insomma sono diventato amico suo anche per la stima che ho di lui però io adesso non ne farei un quadro ageografico cioè quasi quasi così con le parole di Alfredo mi sembrava che venisse paragonato quasi a Ettore Majorana e io parlerei più di di qualcos'altro soprattutto per quanto riguarda le persone che ci stanno a sentire guardate negli Stati Uniti si usa dire nei giornalisti americani usano dire che la notizia è come una donna incinta o lo è o non lo è se la notizia è vera cioè se il fatto è vero ed è verificabile anche allora è notizia e va pubblicata adesso quello che noi dobbiamo cercare di stabilire vista l'enormità della della questione di cui stiamo parlando è se il fatto è vero o non è vero ora io stesso sono sono come dire testimone di tutta una serie di prove che fanno considerare come autentico il discorso che sta facendo adesso Alfredo Ravelli nel senso che queste lettere di cui lui ha parlato sono saltate fuori nel 2015 io ho sempre detto a Rolando che avevo bisogno di prove per poter parlare concretamente di questa storia io ho iniziato a pubblicare i miei articoli sul giornale nel 2010 quindi avevo bisogno di qualcosa di concreto sono saltate fuori le lettere e poi sono saltate fuori le fotografie sono stato io a chiedere le perizie e lui si è rivolto anche attraverso lo stesso Alfredo perché è lui che ha contattato la grafologa la dottoressa Chantal Sala per periziare queste lettere affinché se ne potesse parlare con cognizione di causa come dire queste sono veramente lettere scritte da Ettore Majorana e anche quando sono saltate fuori le fotografie fotografie anche quelle per certi versi controverse perché ce n'è una per esempio del 96 dove si vede un uomo vicino a Rolando Pelizza quel uomo è o dovrebbe essere Ettore Majorana se non che questo signore dimostra una cinquantina d'anni basta confrontarla con con Rolando Pelizza che in quel giorno aveva 58 anni questo qua sembrava ancora molto più giovane di lui eppure nel 1996 Ettore Majorana avrebbe avuto 90 anni eppure dietro la fotografia c'era una dedica una dedica rivolta a a Rolando Pelizza ebbene la dottoressa Sala ha fatto il 9 dicembre del 2016 una perizia e ha scritto lo leggo testualmente la lettera scritta a mano datata Italia 5 agosto 1996 sul retro di una fotografia firmata Ettore è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Majorana Ettore Reno quello che tu dici è verissimo e va a conferma ancora di più di quanto abbiamo scritto ma accanto alle lettere e accanto alle fotografie periziate io ho raccolto e ho dato una serie di documenti comprovanti e tu hai fatto anche la tua parte comprovanti tutto il racconto che ha fatto Rolando si certo riguardo agli esperimenti che lui ha fatto con la macchina per l'Italia prima per i privati poi per gli USA poi per l'Italia poi per il Belgio per la Nato e tutta una serie di altri documenti che comprovano che lui ha fatto una serie esistono ancora oggi sono ancora in vita persone che hanno assistito a questi esperimenti che possono dire che la macchina ha funzionato Alfredo io confermo tutto quello che dici lo confermo ma non solo vado anche oltre qui una storia che è avvallata da una serie di documenti va bene mentre tutte le altre abbiamo sentito all'inizio correttamente andato tutte le varie ipotesi perché su Majorana ha scritto di tutto e di più perfino dicendo che era un omosessuale dicendo persone che non hanno detto e tu stesso hai contestato questa tesi adesso che era un barbone che l'hanno trovato per caso ma tra l'altro non dicono che il giudice Borsellino scusami il giudice Borsellino aspetta Alfredo fermati un attimo io direi allora facciamo una cosa il giudice Borsellino il giudice Borsellino quando era in vita fu quello che verificò l'identità di quel barbone era un barbone di Mazzara del Vallo in Sicilia e confermò confermò che non aveva niente a che vedere con Ettore Majorana e dappertutto corrono sempre le dicerie ecco là era quel barbone però dobbiamo dire insomma che noi abbiamo fatto anche una scelta ben precisa che è quella di seguire di seguire poi invece l'ipotesi del convento anche perché davvero ci racconta una storia interessante e qui veniamo veramente alla macchina e darei anche spazio anche a qualche domanda signor Sergio in linea signor Sergio buonasera buonasera salve prego faccia pure la sua domanda allora io avrei un paio di domande le faccia tutte e due così poi le rispondono Mirco abbiamo il volume un po' basso della domanda però ok cerco di avvicinarmi grazie allora io vorrei chiedere quali sono le condizioni che si dovrebbero creare secondo Majorana e felizza o anche secondo il parere il vostro parere per far sì che si possa mettere in azione la macchina ed in che modo singoli o gruppi di individui potrebbero contribuire per realizzare ciò e la seconda domanda se è possibile rispondere naturalmente pur consapevole che è una situazione molto delicata mi piacerebbe chiedere cosa si sa di Majorana ovvero a quando risale il suo ultimo contatto mi chiedo poi se è stato sequestrato dai servizi segreti è stato poi rilasciato dal momento che i servizi segreti sapevano dove Majorana fosse luogo in cui è stato prelevato o rapito perché non rendere pubblico dove ciò è accaduto bene eh signor Sergio le domande le ha fatte tutte e due adesso le daranno risposta io direi sia sì Rino prego cominciamo con Rino Di Stefano allora grazie signor Sergio buona serata ci segua pure non so se sta ascoltando la radio oppure se sta guardando la diretta Facebook comunque continui a seguirci guardi io prenderei in considerazione le potenzialità di questa macchina dunque abbiamo detto che annichilisce riscalda trasmuta e fa anche traslare la materia guardate che guardate che queste sono cose di una enormità incredibile io parlando con dei professori universitari mi hanno detto ma no guardi questa è Babbo Natale queste sono fantasie incredibili per cui andiamo un po' nel concreto di quello anche per rispondere al lettore nel concreto di che cos'è questa macchina e cosa ne sappiamo veramente noi abbiamo la certezza certezza intendo dire da un punto di vista documentale che negli anni 70 questa macchina c'era abbiamo dei video abbiamo un'ampia documentazione tra l'altro riportata anche nel libro di Alfredo quindi noi sappiamo che questa macchina c'era esisteva sappiamo che prima il Rolando e dei suoi associati si sono collegati con il governo italiano era il terzo governo Andreotti poi con il governo americano presieduto da Gerald Ford e poi ancora in ultimo con il governo belga presieduto da Leo Tindemans quindi i contatti ci sono stati e io non credo che tre governi si lasciassero come dire imbrogliare su una cosa di questo genere soprattutto sulla prima fase cioè l'annichilazione della materia cosa significa? Significa praticamente far diventare energia pura la materia solida che è una cosa che normalmente viene fatta con un'esplosione nucleare e poi soltanto per certi elementi quindi qui non ci sarebbero radiazioni a differenza invece non ci sarebbero radiazioni e questa è già una cosa incredibile io mi ricordo parlando con un docente di fisica mi ha detto guardi che se c'è l'azione devono esserci raggi gamma e raggi gamma sono letali come si sa e invece nel caso nel caso di questa macchina pare che non ci sia niente del genere ora volevo dire noi sappiamo che negli anni 70 questa macchina c'era ma attualmente se dovessimo dire questa macchina esiste c'è dov'è è operativa non siamo in grado di dare una risposta il motivo e Alfredo lo sa molto bene anche è che Rolando si rifiuta di rispondere a certe domande perché lui sostiene di essere tenuto al segreto e quindi dice io certe cose non le posso dire allora il mio sforzo come giornalista in questo caso è quello di dover cercare la verità avendo come dire per certi versi anche l'opposizione del protagonista il quale mi dice no io certe cose non le posso dire e non le dico allora se tu certe cose non le dici come facciamo a rendere le pubbliche come facciamo a ridurre allora ascolta corretto quello che dici eh premetto che è correttissimo quello che dici però rimane il fatto ben preciso che Rolando ha voluto raccontare la storia la sua biografia ma lui non interessava mica tanto la biografia gli interessava raccontare la storia per portare a conoscenza la vicenda lo so lo so a quanto lui ha fatto fino al 1992 e fino a lì fino al 1992 la storia è stata raccontata con tutti gli episodi la maggior parte degli episodi documentati poi si è bloccato bloccato perché per una serie di motivazioni tra l'altro lui afferma questo è inutile andare avanti se tu leggi l'ultimo mio libro che ho scritto sempre riguardante la biografia di Rolando da lui li ho letti tutti Alfredo li ho letti tutti e poi non solo bisogna dire che i libri è un unico libro aggiornato con varie edifici ma d'accordo giusto è la biografia è la biografia e li ho letti tutti li ho letti tutti quindi so benissimo ma non solo posso anche il problema fondamentale è questo qui che lui fino al 92 è stato autorizzato a raccontare questa storia siccome dice questa macchina è capace di annichilire e l'ho dimostrato questa macchina è capace di produrre energia a costo zero e l'ho dimostrato bisogna ricordarsi che quando lui è andato c'è il contratto che io stamattina ho passato a un sito l'accordo fatto con lo stato belga con Tinderman in cui lui doveva andare riscaldare per fare una prova di riscaldamento di ottenere dell'energia solamente come riscaldamento gli ha messo davanti un carro armato che lui doveva distruggere esatto poi abbiamo le prove della trasformazione ora queste prove della trasformazione se vogliamo sono piuttosto deboli perché sono dei filmati e un racconto al riguardo poi abbiamo la quarta fase lui dice è inutile che io vada fuori a parlare di quanto può fare la macchina anche nel futuro e il resto se la macchina non viene utilizzata neanche per la prima fase o la seconda fase nota bene che Majorana le aveva detto chiaramente nella prima lettera nella prima lettera che la macchina doveva essere presentata solamente per la seconda fase vi posso portare un attimo alla domanda delle ascoltature dove chiedeva sì ma infatti io ci volevo arrivare io ci volevo arrivare che cosa si deve fare per mettere in azione la macchina ma io ci volevo arrivare volevo fare questa premessa che è stata un po' lunga ma per far capire la situazione perché una macchina di questo genere se fosse mostrata in pubblico guardate io insisto per primo col dire che bisogna dare una dimensione scientifica a tutto questo perché se non ha una dimensione scientifica non serve a niente noi stiamo parlando di una ricerca e di una tecnologia che definire fantascientifica è poco quindi per mostrare a tutti una cosa di questo genere bisogna trovare prima di tutto i soggetti che sono in grado di gestirla quindi chi è in grado di gestire una macchina di questo genere punto interrogativo perché non è mica possibile cioè non è che uno possa far vedere come prendo un blocchetto di ferro te lo disintegro e te lo faccio diventare energia pura tra l'altro bisogna vedere anche qual è la quantità di ferro che si vuole o di qualunque materia che si voglia annichilire perché poi tra l'altro provocherebbe una vampata di calore incredibile che potrebbe uccidere anche le stesse persone che stanno facendo l'operazione quindi c'è tutta una serie di problemi che bisogna dire un secondo Dino io voglio dirti perché a me piace parlare anche con mano proprio le lettere di Majorana che io ho letto e straletto perché per me sono la base fondamentale di tutto il racconto appurato che queste lettere sono state dichiarate che sono autentiche scritte da Majorana per me è un punto fermo accanto a tutti gli altri documenti c'è una prima cosa nella prima lettera che per me è quella fondamentale Majorana si rivolge a Rolando e dice come ben sai quanto hai appreso va molto oltre le attuali conoscenze pertanto non misurarti con nessuno perché potresti scoprirti anche se qualcuno conoscendoti ti provocherà tu ascolta e fighi di non capire so bene che questo sarà molto difficile ma credimi se dopo aver sentito quello che ti dirò accetterai di realizzare la macchina dovrai fare questo e molto di più prima roba seconda roba per quanto riguarda l'annichilimento e la produzione del calore Majorana risponde già nella questa prima lettera che dice prima fase che si chiama l'annichilimento sai bene il principio della stessa generiamo antiparticelle nella quantità e qualità da noi desiderata cioè quello che stanno facendo cercando di fare adesso i fisici lui era capace di farlo e dice generiamo siamo io e tu assieme che facciamo questo conosciamo bene la reazione delle antiparticelle a contatto con la materia per la quantità di calore questo che il grande fatto dovrebbe esplodere bomba atomica eccetera che ne deriva non preoccuparti ti ho mostrato tutti i calcoli del frenaggio sulla materia colpita perciò quanto fatto Mario Rana ha messo che questa lettera sia vera e io penso che sia vera perché è stata documentata dice chiaramente va tranquillo che quello che tu farai non potrai ottenere l'annichilimento senza calore Alfredo guarda che rischia insomma il mondo non sia ancora pronto per questa macchina quindi non ci sono ancora le condizioni scusate vi dico la mia opinione non vorrei che ci parlassimo addosso perché citare 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 queste lettere io vi posso dire anche quando sono state fatte le perizie e io ti dico questo perizio perché l'ho pagata anch'io e lo so lo so ma proprio per avvallare ma proprio per avvallare questo discorso che le perizie ci sono state e sono state tutte come dire con un solo obiettivo cioè già che ci siamo allora la prima perizia è stata fatta il 28 gennaio del 2015 sulla lettera del 26 febbraio 1964 l'esito della perizia è stato detta lettera è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Majorana Ettore prima perizia seconda perizia la lettera che ha ricevuto il professor Recami direttamente da Majorana o dal presunto Majorana chiamiamolo così la lettera era datata 20 dicembre 2000 la perizia è stata fatta l'8 maggio del 2015 sempre dalla dottoressa Sala e dice l'esito la lettera scritta interamente a mano datata Italia 2012 2000 composta da tre pagine scritta e firmata in ultima pagina suo Ettore Majorana è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Majorana Ettore seconda perizia terza perizia del 9 dicembre 2016 fatta sul retro della fotografia del 5 agosto 1996 l'ho già detto prima è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Majorana Ettore per cui con le perizie ormai diamo per scontato che sono state univoche dimostrano scientificamente almeno vista che la scienza forense è quella su cui dobbiamo basarci non so per esempio nel caso di processi ci si basa su quella quindi se mai dovessimo parlare di un processo queste perizie farebbero testo ok e quindi noi sappiamo che le perizie autenticano le lettere che sono state attribuite quindi corretto come Ravelli diceva io voglio rifarmi sul contenuto di quelle lettere per me questa è la base poi per sviluppare tutto il resto sicuramente io però adesso vi chiedo un attimo perché la regia ci chiede la linea per qualche consiglio eccetera poi riprendiamo tra pochissimo qui su Radio Sound Eccoci di nuovo ripartiamo quindi con questa seconda parte della nostra trasmissione di nuovo una buona serata che ci sta seguendo siete su Radio Sound in studio abbiamo ospiti abbiamo Alfredo Ravelli biografo di Rolando Pelizza e Giorgio Mettigari editori che ancora non abbiamo sentito ma poi due parole che facciamo dire anche perché insomma è venuto appositamente e abbiamo invece collegato via Skype il giornalista Rino Di Stefano riprendiamo il nostro argomento abbiamo lasciato un po' in sospeso la risposta ad una domanda che era quella insomma che cosa si sa di Majorana adesso a quando risale l'ultimo contatto poi chiedeva se era stato sequestrato dai servizi segreti se è stato poi rilasciato dal momento che i servizi segreti sapevano dove Majorana fosse luogo in cui è stato poi prelevato rapito perché non è stato reso al pubblico molto velocemente una domanda sintetica vuole rispondere Rino? ma secondo me Alfredo ha più informazione su questo non so vedete voi ho tutte e due non c'è problema vabbè comincio io Rino o vuoi parlare tu? allora dai guarda io posso dire quello che ha scritto allo stesso Rolando perché io gli ho rivolto questa domanda e lui ha scritto sul suo sito come ben saprai queste esatte parole l'ultimo episodio di vera e propria vessazione nei miei confronti è avvenuto quando un gruppo armato si presentò a noi lui parla del convento si trovavano all'interno del convento ed era il 2006 intimandoci di seguirli per una destinazione non specificata Ettore si oppose fermamente temendo per la probabile separazione dalla mia famiglia e si offrì di seguirli spontaneamente in cambio della mia libertà così avvenne in quell'occasione ci furono sottrate due macchine complete ed una in costruzione oltre agli scritti del maestro riportanti i suoi progressi nel perfezionamento della quarta fase dell'utilizzo della macchina ora stando alla testimonianza di Rolando Pelizza questo è quello che accade nel 2006 da quel momento non si sa più nulla di Ettore Majorana nel 2006 nel 2006 Ettore Majorana avrebbe avuto cento anni giusti è corretto quello che dice Rino Di Stefano ma tu sai qualcosa in più? no so solamente so solamente a parte che io torno sempre a ripetere che io mi fermo sempre agli episodi fino al 1992 perché ho avuto questa autorizzazione e ho accennato ho messo dentro anche gli altri episodi del 2006 perché l'ha voluto Rolando ma noi siamo fermi come racconto lì ed è corretto quello che dice lui infatti l'ha scritto Rolando l'ha detto è una sua dichiarazione quindi dal 2006 non sappiamo più niente non sappiamo non sappiamo più niente ufficialmente non diciamo più niente ufficialmente ci tenevo anche a far presente un'altra domanda che ci pongono è nel 1976 la macchina venne sottoposta a sperimentazioni da parte del professore Ezio Clementel presidente del CNEN quale fu il risultato di questa sperimentazione? penso che Rino Rino vuoi rispondere tu? posso dire che si chiese venne chiesto al professor Clementel di fare un protocollo un protocollo in accordo con il governo italiano il protocollo prevedeva tutta una serie di prove e la macchina venne sottoposta a queste prove non vennero fatte solo quelle perché Rolando chiese anche e che ne venissero fatte altre e la macchina superò tutte le prove tant'è vero che il professor Clementel lasciò una relazione dove in effetti espose disse questa macchina va al di là della tecnologia che conosciamo oggi cioè è molto molto più potente della tecnologia conosciuta allo stato di quel tempo ecco e tra l'altro ci sarebbero da dire anche altre cose sul professor Clementel perché lui ha insistito sino alla fine perché fosse soltanto il governo italiano a interessarsi di questa cosa ma poi la cosa poi questa questione sfuggì di mano intervennero gli americani e quando intervengono gli americani il governo italiano si ritira immediatamente infatti Andreotti Andreotti diede ordine all'allora segretario al al Ministero dell'Industria alla Commissione Industria della Camera Loris Fortuna di immediatamente sospendere tutti i contatti con Rolando veniamo a tempi più recenti invece nel 2010 c'è stato una il professore Sergio Ratti che avrebbe dovuto iniziare delle ricerche sulla funzionalità della macchina all'Università di Pavia lui è docente di fisica sperimentale era non c'è più no è merito però nel 2010 dovevano iniziare ma sono iniziate queste ricerche sono proseguite no non sono mai iniziate per il semplice motivo che la macchina non è mai stata messa a disposizione la macchina è sparita nessuno di noi sa dove sia questa macchina sì però lui ha fatto lui ha fatto una conferenza finanziata dall'istituto nazionale di fisica nucleare INF una conferenza pubblica in cui ha dimostrato ha dimostrato a suo dire che il principio della macchina non andava incontro a nessun principio della fisica attualmente conosciuto certo contrariamente quanto un altro ha sostenuto a Pavia quando mi hanno presentato la macchina lui ha fatto tutta una relazione lunghissima dicendo che rispettava tutte le leggi conosciute di questo però ha mai fatto nessuna non ha mai costruito una macchina ne ha fatto nessun esperimento lui ha detto lui ha detto che si sarebbe espresso sulla macchina soltanto soltanto se avesse potuto averla in mano e avesse potuto testarla prima di quello non si sarebbe mai espresso infatti non l'ha fatto è corretto insomma era stato correttissimo io vorrei tornare ma non ci troviamo però ad un punto morto allora no assolutamente sì perché la macchina non c'è ma per me non è un punto morto perché siamo un punto di partenza no ma Alfredo le cose non stanno così da un punto di vista del pubblico della comunicazione perché la gente si aspetta che noi forniamo qualche risposta precisa ok la risposta è difficile giusto difficilissimo appunto appunto è un punto di partenza perché sappiamo che ci sono stati degli episodi c'è stata questa macchina la macchina ha funzionato per cui bisogna fare in modo che venga tirata fuori d'altronde lo dice ben preciso anche Rolando siccome già Maiorana aveva nella prima lettera che per me era la lettera fondamentale riguardo dice nonostante il mio desiderio di vedere questa macchina realizzata sia immenso parentesi per il bene dell'umanità perché devo ricordarsi sempre che questa macchina lui l'ha sempre voluto fare tanto vero che poi più tardi più avanti dice anche dice anche la macchina tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto per nessun motivo anche a costo della vita sarà ceduto come strumento bellico lo dice ben preciso è un patto che hanno fatto loro due e l'ha sempre mantenuto per il bene dell'umanità credo scusa credo che sia questa la vera ragione per cui Ettore Maiorana è chiaro scomparso infatti lo dice anche nella lettera che scrive al riguardo qui nella lettera del questo qui dice a Rolando che può sulla lettera testamento ti prego di rivelare i veri motivi che mi hanno spinto nel 38 ad allontanarmi da tutti per dedicarmi lo studio nella speranza di arrivare in tempo e poter dimostrare al mondo scientifico che esistevano alternative importanti e senza pericoli e prosegue ancora dicendo purtroppo non sono arrivato in tempo questo lo dice nella lettera scritta che ha fatto al riguardo e per cui quello che dice finendo con la prima per il bene dell'umanità che purtroppo sta andando incontro a un terribile disastro a causa del nefasto impiego delle varie scoperte per cui questo è lo scopo fondamentale della macchina è vero che siamo a un punto morto ma deve essere un punto di partenza a mio riguardo cosa fare non lo so neanche io ma per sbloccare questo punto cosa dobbiamo fare? ma infatti era anche la prima parte della domanda del signore il quale dice non abbiamo ancora una risposta su come si può attivare e rendere disponibile questa macchina io ho scritto Rolando ho fatto anche un altro appello per il riguardo vi permetto di dirlo perché per me sono fondamentali e forse va a rispondere a questa cosa qui nel 2014 ho rivolto un pubblico appello a tutti gli uomini liberi di buona volontà ho divulgato l'esistenza di questa tecnologia di cui ho dato ampia dimostrazione a ben tre stati gli USA l'Italia e il Belgio di fronte alla stessa Nato ho anche spiegato le sue applicazioni concrete che potrebbero migliorare o meglio salvaguardare l'esistenza dell'umanità come voleva Ettore Majorana e come voglio io che l'ho costruita non chiedevo finanziamenti ma la possibilità di metterla a disposizione per tutti i possibili usi pacifici è a vantaggio innanzitutto del mio paese dell'Europa e di tutto il resto del mondo ma a questo mio appello probabilmente per contrarre interessi superiori è rimasto lettera morta cioè lui ha detto io sono disponibile fate un appello datemi una mano datemi la protezione fatemi qualcosa si è mosso qualche ad uno anche dal punto di vista ufficiale posso intervenire io sono di qua perché in studio lì siamo in tanti sono qua in regia volevo dire questo io credo che questo che noi definiamo il punto il PM il punto morto inferiore diciamo come se fosse un motore adesso non è altro che il trampolino di lancio per poter iniziare a far funzionare questo motore quindi nel nostro piccolo questa sera con questi autorevoli relatori ospiti siamo ad uno start up il mondo l'abbiamo già detto e l'abbiamo ripetuto diverse volte anche nei nostri congressi sta cambiando a 360 gradi ad una velocità che neanche ci immaginiamo oggi come oggi io sono profondamente convinto che Ettore Maiorana abbia depositato tutto questo sapere nelle mani di Rolando e Rolando lo ha fatto girare sul web e lo ha messo a disposizione di tutti è chiaro che è una una partita molto difficile da giocare infatti poi volevo sentire anche una parola anche da Giorgio Mentegari che è il tuo editore Alfredo proprio in merito a questo cioè noi siamo credo davvero alla svolta all'inizio di un cambio epocale incredibile non ce ne stiamo accorgendo ma è così e questo è un po' il mio pensiero ecco per dare ancora più forza a tutto quello che si sta facendo a livello giornalista come ha fatto Torino a livello editoriale come hai fatto tu Alfredo con Giorgio Mentegari e soprattutto quello che è stato diffuso sul web perché è alla portata di tutti ora siamo davvero con qualcosa di speciale che potrebbe cambiare le sorti del mondo e quello che dicevi tu Alfredo in merito a ciò che stiamo andando incontro alla situazione nefasta lo abbiamo sentito anche da parte dell'agenzia dell'Enea per quanto riguarda il degrado ambientale e il punto di non ritorno che guarda caso Majorana aveva ipotizzato tra il 2022 e 2024 e questo ci è stato anche confermato dai funzionari del Ministero dell'Ambiente sentiamo allora Giorgio Mentegari sì in realtà ci sono molti campi di applicazione della macchina Majorana Pelizza non ci dobbiamo però dimenticare che tutto quello che si potrà fare da oggi in avanti io sono d'accordo con te quando parli di trampolino e noi siamo qua per questo i libri le conferenze tutto quello che cerchiamo di fare per divulgare la storia è in funzione di questo di creare il trampolino più semplice possibile perché Rolando lo possa percorrere tutto il futuro è comunque nelle mani di Rolando non abbiamo altri modi se non cercare di aiutare lui e creare una situazione nella quale lui possa portare la conoscenza che gli ha trasferito il suo maestro e renderla fruibile per tutti quanti tutto ciò che lui ha subito io ho avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo in molte occasioni immagino cosa abbia subito lui la sua famiglia e tutto quant'altro in quanti anni sono Alfredo di sofferenza per Rolando troppi chi di noi avrebbe sopportato in virtù di un giuramento fatto con il proprio maestro tutto questo io personalmente no e non so chi altro l'avrebbe fatto dobbiamo solo creare un terreno nel quale lui possa cambiare idea rispetto alla lettera testamento che ha letto prima Alfredo nella quale dice io non ce la faccio più quello che potevo fare l'ho dimostrato ma se nessuno mi dà la possibilità di farlo io mi fermo qua e quello che stiamo cercando di fare adesso tutti insieme è questo ho una domanda che era arrivata e ci chiedono Rolando Pilizza oltre ad aver abbandonato il progetto per le continue ripercussioni che tutti conosciamo ha veramente distrutto parte dei codici per fare funzionare la macchina togliendo qualsiasi futura speranza per l'evoluzione umana quello che so io quello che so io è stato un consiglio che le ha dato anche Majorana al riguardo perché Majorana in un certo momento in una sua lettera adesso dovrei cercarla questa lettera dice dice chiaramente lascia perdere tutto perché ormai non ce la facciamo lo dice qui è ora di arrendersi il tempo che avevamo previsto è passato come d'accordi distruggi tutto come se non fosse mai esistito solo così ti sarà permesso essere libero quando sapranno che non potrai più realizzare nulla sapendo che non hai più nessuna formula forse ti rilasceranno in pace dedicati a realizzare i tuoi ritrovati tecnologici che hai messo in disparte per seguire il nostro programma eccetera eccetera questo è stato un consiglio a mio parere Rolando è sempre lì vuol portare fuori questa macchina quindi ce li ha i codici per me ce li ha perché in un certo momento no perché in un certo momento perché anche Majorana in un certo momento riguardo a Rolando gli dice proprio in questa lettera siamo arrivati alla fine del secolo hai completato la terza fase eccetera in un certo momento gli dice hai disatteso quanto io ti ho indicato perché Rolando è deciso veramente ha dedicato tutta la sua vita per questa roba e vuole mettere a disposizione dell'umanità Marco chiede secondo me è tardi gli schemi e gli elementi per fabbricare la macchina quando è talmente chiaro che questa stessa non potrebbe mai funzionare perché manca la parte software quella che è stata in parte concepita dal professor Carlo Tralamazza quindi in definitiva ci si chiede qual è stato lo scopo di pubblicare solo una parte della macchina sapendo che la stessa hardware non funzionerebbe mai posso rispondere io è molto semplice è stato un estremo tentativo di Rolando Belizza perché a un certo momento io torno sempre sulle lettere di Majorana perché per me è come tra virgolette come se fosse forse la Bibbia in un certo momento la Bibbia cosa gli dice cosa succede che cosa che adesso ho perso vorrei che se trovi si trovarmi posso intanto dire una cosa io Alfredo dillo scusa anche io vorrei intervenire no infatti tiralo in ballon chiarino perché secondo me uno degli e qui chiedo sia a a a a a a a a come spazio tesla noi saremmo veramente lieti e lusingati di poter contribuire pubblicando interamente tutto il materiale tutti i disegni della macchina questo è un primo passo che vorremmo fare nel nostro è già stato fatto sì sì non lo so però io non mi sono mai permesso di dover andare a replicare cose che non sono di nostro di nostro dominio quindi chiedo a voi gentilmente se anche noi possiamo contribuire in questo allora vorrei rispondere per quello che riguarda la mia parte cioè io ho accettato quando Rolando mi ha mi ha detto se volevo pubblicare tutti i disegni delle della macchina quindi i piani di costruzione eccetera con la sicurezza la certezza che quelle che quei disegni e l'eventuale contributo alla costruzione della macchina non avrebbero mai comunque fatto funzionare la macchina perché voi potete immaginare che cosa significherebbe se una macchina di questo genere fosse a disposizione di tutti infatti io nel mio sito dove ho pubblicato la roba ho specificato fin dall'inizio che quella roba non serviva i disegni non servivano a costruire la macchina che poi funzionava servivano solo a dimostrare che la macchina esiste o esisteva ok e che quindi non era un parto di fantasia ma era qualcosa di concreto ora per quanto riguarda proprio andiamo alla prima domanda del lettore che poi è come dire la domanda che tutti si pongono no ma cosa si deve fare per far uscire questa macchina allo scoperto eccetera ebbene nessuno nessuno in questo momento si sentirebbe di fare una dimostrazione pubblica di una cosa del genere a parte il fatto che non c'è la macchina che nessuno sa dove andarla a reperire ma a parte quello se ci fosse una macchina secondo professori universitari cosa sostengono loro c'è questa macchina la vogliamo testare vogliamo dare una dimensione scientifica a questa cosa si fanno due copie di questa macchina si danno contemporaneamente a due università diverse loro lo esaminano questa macchina fanno tutta una serie di test dopodiché ci sarà il risultato finale e i docenti diranno questa macchina in effetti a che cosa serve sia da parte di una università sia da parte dell'altra chiaramente una cosa di questo genere in questo momento è fantascientifica per cui quando un altro lettore dice ma allora perché è stato fatto tutto questo è stato pubblicato tutto questo certe volte mi pongo anch'io questa domanda perché io stesso che ho fatto un sacco di ricerche su questo caso e mi riferisco ad anni recenti va bene alla fine arrivo al risultato che certe cose non si possono dire non si possono dire e sapete anche perché per l'incolumità stessa di Rolando va bene perché c'è anche da dire che la persona potrebbe risentire se certe informazioni venissero come dire divulgate così in modo arbitrario io stesso vedete io non ho scritto una biografia autorizzata come ha fatto Alfredo Ravelli per cui lui deve sottostare praticamente al come dire al volere dell'interessato cioè di Rolando Pelizza io non sono sottoposto a nessun vincolo però certe cose non le scrivo per non mettere nei guai o per non danneggiare ulteriormente un uomo che comunque ha dedicato la sua vita a qualcosa che lui ha sempre detto per il bene dell'umanità ora io non vorrei che mettendo in giro certe notizie addirittura si riuscisse o meglio si riuscisse si poi venisse coinvolto lui in questo modo e quindi potesse risentirne parlo a livello di salute fisica Rino scusami c'era anche Alfredo che voleva dire qualcosa riguardo riguardo la macchina perché i disegni sono stati pubblicati perché sono stati pubblicati i disegni c'era uno scopo ben preciso che è questo innanzitutto devo fare sempre riferimento a quanto gli ha detto Majorana cos'è il problema il problema è come potrai leggo la lettera del 2012 del 2000 il problema è come potrai realizzare la macchina qui dove sono io oppure la costruisci da te e poi tramite i nostri fidati emissari la trasferisci qui ma sarà possibile trasportarla qui visto che già in altre occasioni ti hanno requisito le macchine appena terminate succede che cosa che Rolando ha tentato parecchie decine decine di volte di fare la macchina sempre le sono state portate via al momento perché è controllato proprio al 100% allora cosa ha pensato pubblichiamo i disegni costruite la macchina se costruite la macchina se uno costruisce la macchina a Madrid un altro a Catania e poi mi chiama io ho il software vado e lo faccio andare allora non costruisco più io la macchina ma costruiscono gli altri e non possono requisire 50 macchine se sono state costruite in 50 posti diversi questo era lo scopo quindi questo è il motivo per cui sono stati pubblicati i disegni però i disegni non è lo scopo i disegni sono reali la macchina è lì manca solamente il software che la solamente Rolando bene potrebbe essere anche la soluzione nessuno l'ha chiamato per dire l'ho costruito intanto aggiungo altre domande che fine farà la formula per fare funzionare la macchina ci chiede Gianluca scomparirà tutto con il trapasso di Pelizza e ancora dov'è questo qua ha lasciato Pelizza ha lasciato documentazione sulla fisica e la matematica insegnatagli da Majorana che io sappia posso rispondere io che io sappia non ha lasciato Pelizza ma era stato niente si rifiuta anche di partecipare rispettando l'ordine che gli ha avuto ma allora scomparirà tutto dopo il trapasso di Pelizza come chiede anche io torno per ripetere forse ho fatto nel primo libro che ho scritto i tre libri più o meno ripetono la stessa storia ampliandola portando documenti aggiornandola a riguardo questo per chiarezza di tipo di discorso però ho fatto una premessa nel primo libro che era fondamentale voluto da Rolando dice a me interessa prima cosa dimostrare due o tre cose fondamentale prima cosa dire chiaramente che io non sono l'autore di questa teoria ma è Majorana e lui ha fatto il nome del Majorana a me personalmente nel 97 dopo 17 anni che io lo frequentavo proprio quotidianamente per cui tanto per dire e l'abbiamo tenuto in ascolto finché il 2001 2011 le ha dato l'autorizzazione Majorana di fare il suo nome e abbiamo aspettato ancora sei o sette anni anzi una decina di anni prima di pubblicare il libro questo per chiarezza non siamo Rolando Pelizza non è uscito fuori dicendo io conosco Majorana io ho fatto questo ho sempre tenuto in ascolto perché voleva portare la macchina a vantaggio dell'umanità questa è la prima cosa che è fondamentale quindi ha tentato poi in tutti i modi questo è stato un modo per metterla a disposizione per rispondere alla domanda tutto quello che sappiamo finirà con Pelizza l'altro nell'intervento fatto diciamo all'inizio nel primo libro lui mi ha detto anche secondo non mi interessa la mia storia non farla conoscere perché per lui era banale per lui però era banale terzo bisogna portare anche l'aspetto dello spirito della presenza di Dio in questa storia io nel primo nella prefazione che faccio porto quello che lui mi ha detto di dire e lui infatti nel parla in un certo momento anche di una certa entità nel suo quando parla fa un discorso in cui parla che lui ha avuto certi input ben precisi da un'entità chiamiamo l'entità lui dice questa macchina a costruire è estremamente difficile da costruire anche aver lì tutto il aiuto possibile però io andavo a dormire di notte non ho mai sognato però mi veniva detto fa questa maniera per risolvere un problema al mattino mi alzavo dopo mezz'ora dopo un giorno dopo tre giorni secondo il problema io risolvevo e ho avuto questo e lo dice chiaramente in una sua dichiarazione di questa roba cosa che noi non abbiamo mai sviluppato questo perché non abbiamo sviluppato quindi non è scritto questo no è scritto è scritto con una sua dichiarazione nel libro del 2006 lo dice alla fine lo dice questa roba qui che l'ha avuto riguardo perché non abbiamo scritto il riguardo prima perché lui volevamo portare sul piano scientifico siccome se parliamo di entità parliamo di cosa si pensa subito che cosa siamo fuori cominciano già questa storia sentiamo poi anche Rino cosa pensa di questa entità mi ripetete la seconda domanda fatta dal lettore per favore allora era forse quella si è lasciato una documentazione sulla fisica e la matematica si è lasciato una documentazione e anche se l'altra invece se dopo Pelizza qualcosa resterà cioè sparirà tutto allora sì sì ma è interessante è interessante quello della documentazione dunque c'è una lettera una delle lettere lasciate da 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 Majorana dove si si danno le istruzioni Alfredo se lo ricorderà si danno le istruzioni a Rolando di andare a vedere a pagina 20 perché a pagina 20 del codice dove dove ci sono scritte determinate cose che lui deve seguire quindi noi sappiamo dal momento che le lettere sono state autenticate quindi le lettere sono autentiche va bene che esiste un codice che è stato dato da Majorana a a Rolando Pelizza con tutte le istruzioni e la fisica di ciò di cui lui parla ok lui Rolando mi ha detto che questo codice è di circa 200 pagine più o meno e sono tutte ehm manoscritte quindi è è un bel blocco di roba che gli è stato dato e che voi potete immaginare quanto servirebbe quanto servirebbe ai nostri fisici poter consultare per capire che genere di fisica ci sia dietro dietro questa tecnologia quindi in effetti lui Rolando Pelizza ha questa roba ok questo codice lui ce l'ha e questo codice sarebbe è stato scritto per mano dello stesso Majorana quindi se solo volesse queste cose verrebbero diffuse il fatto è che non vuole dice che lui non può non può assolutamente rivelare qual è la tecnologia che sta dietro questa macchina allora io scusate io mi domando come giornalista io faccio di tutto per come dire per documentare questa storia però poi mi trovo davanti l'ostacolo dello stesso protagonista che dice sì io vorrei ma non posso e questo è un gravissimo problema Alfredo parliamo di una persona pelizza che ha 80 81 anni come me 81 anni complimenti perché li porta veramente molto bene ma sicuramente lui avrà pensato al fatto che la sua vita non potrà durare ancora tantissimo dovrà lasciare un testamento quale sarà l'eredità che lascerà cioè è possibile che non abbia dato uno spunto sul dopo la sua esistenza lui Ronaldo è convinto che qualora dovesse lui venire a mancare a mancare la storia va avanti con altri uomini e con altre con altri mezzi lui è convinto di questo ok posso intervenire per una cosa per cercare anche io vorrei intervenire ecco allora Rino intanto io vedo che tu tra l'altro l'avevi anche scritto e poi c'è anche su altri testi che si trovano in internet che nel 76 il CNEN il Comitato Nazionale per l'energia nucleare incaricò al professore Clementel per fare gli esperimenti li abbiamo parlato prima quindi voglio dire su questo non si discute più a sto punto Spazio Tesla lo dico apertamente si mette a disposizione per fare una prova con una delle macchine che potrebbero essere costruite in funzione dei disegni che ci darete questo lo posso dire pubblicamente allora Alberto e lo riprenderemo e lo riprenderemo in streaming così se dovesse succedere qualcosa sanno che lì noi stiamo facendo perché noi abbiamo una sezione che si occupa di ricerche Alberto che notizia lo sai benissimo che il tuo amico ingegnere che io ho conosciuto ho avuto modo di conoscere lui ha costruito la macchina ce l'ha ok? l'ha costruita quindi noi sappiamo almeno uno Alfredo diceva ci fosse uno no noi sappiamo di una persona un ingegnere che ha costruito questa macchina ce l'ha e non è solo adesso riscriviamo l'ingegnere allora Dio solo sa quante persone l'hanno costruita questa macchina Rino ti stai dicendo una cosa che noi non sappiamo quindi ve lo dico io comunque diciamo che da buon giornalista ha indagato bene a mio lavoro a livello nostrano diciamo in funzione dei disegni che ci darete tu e Alfredo cercheremo con la nostra sezione di ricerca di mettere insieme questa macchina poi Alfredo ce l'ha scusami Alberto prego quell'ingegnere non ha soltanto i disegni ha proprio la macchina è in grado di farla vedere a chiunque quella macchina se vuole ok lui me l'ha confermato mi ha detto io l'ho costruita l'ho fatta tutto bene ma credere che sia stato soltanto uno è un'utopia io vi posso fare un esempio questa macchina ha una caratteristica molto ma molto particolare cioè è protetta da uno schermo magnetico intorno a tutti i lati del cubo va bene di una una materia con un valore preciso di carattere magnetico queste piastre perché sono delle piastre che vengono posizionate all'interno della scatola che contiene la macchina ebbene queste piastre in Europa non le fa nessuno nel mondo nel mondo perché neanche negli Stati Uniti si trova qualcuno che le faccia nel mondo è soltanto una ditta tedesca che ha uno stabilimento in Cina che le produce quando io mi sono messo in contatto con questa ditta mi pare che sia di Monaco giù di Livio o vicino a Monaco di Baviera e quando io ho chiesto mi ha detto ah ma lei non è il primo che si è rivolto a noi perché già altri clienti si sono quindi questo cosa significa? significa che altri hanno hanno fatto delle ricerche sono riusciti a trovare questa azienda e hanno e hanno comprato questi queste piastre per cui le persone che hanno costruito la macchina in giro a questo punto dobbiamo sapere chi sono così poi Pelizza deciderà se dare questi codici vengono avanti queste persone lo dicono allora se Spazio Tesla ha detto che adesso si darà da fare per costruire la macchina credo che appunto ce l'ha già c'è anche ce l'ha già bene ce l'ha già perché quell'ingegnere quell'ingegnere è amico di Spazio Tesla ah addirittura vabbè allora guarda è una notiziona quindi siamo felicissimi io non conosco nessuno la prossima volta non parleremo più di ipotesi ma parleremo di qualcosa probabilmente di un esperimento scientifico reale se davvero poi Pelizza no perché non funziona i codici no Pelizza dovrà dare i codici non li dà davvero ma non li dà non li darà mai non li darà mai 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 eh no eh no perché se avesse voluto l'avrebbe già fatto l'avrebbe già fatto comunque insomma non lo farà mai perché si rende conto di che cosa significa io ho avuto una volta una discussione con lui perché glielo ho detto scusa hai una certa età se tu muori questa roba che fine fa lui non mi ha saputo rispondere mi ha parlato eventualmente di depositare questa formula perché poi di una formula stiamo parlando presso un notaio nel senso mettendo delle caratteristiche precise a chi eventualmente darla in futuro però è stato un pur parler non ha avuto nessun genere di continuazione questo discorso per cui io non so quali siano le sue intenzioni però posso dire con molta concretezza che questa macchina o il software che muove questa macchina non verrà mai tirato fuori per le conseguenze che potrebbe provocare io sono contrario proprio assolutamente a questa certa capisco le difficoltà beh dici la tua ma io sto quanto mi racconta anche Rolando al riguardo è quello che dice lui lui è sempre convinto di poter mettere questa macchina a disposizione certo sa la difficoltà di questa macchina lo sapeva anche Majorana che ha detto tu presenterai la macchina solamente quando hai raggiunto la seconda fase è solo per la seconda fase cioè quella produzione dell'energia e non per l'annichilmento perché è stato quello che tutti hanno corso però lui dice anche questo ha parlato di avere questi aiuti e io voglio tornare su questo punto perché lo dice chiaramente questi aiuti particolari ricordaci entità bene chiamiamola lo dice lui lo dice lui devo parlare del Politecnico di Milano scusa Alfredo devo parlare del Politecnico di Milano vuoi che parli del Politecnico di Milano perché io l'ho seguita tutta la storia non ho capito non parli del Politecnico di Milano non parlo del Politecnico di Milano lo so lo so che non parli del Politecnico di Milano ma lo conosco so la storia del Politecnico di Milano appunto e allora cos'è successo al Politecnico di Milano lo so benissimo a riguardo però non lanciate degli input così perché poi gli ascoltatori fanno fatica Alfredo facciamo così Alfredo stava stava proponendo stetizzo la storia se volete aspetti Rino perché c'era Alfredo che stava un attimino terminando io dico il perché questa cosa deve venire fuori perché questa cosa deve venire fuori che lo dice Rolando che dopo io dopo che venga non venga che si creda non creda però mi lasciate leggere tutte le due le due cose va bene prego negli ultimi tempi seppur con meno frequenza mi appare l'entità sia sotto forma di visione sia come persona fisica e ormai per la confidenza che ho a volte lo rimprovero anche vivacemente per quanto mi sta ancora accadendo e gli con calma mi rassicura vedrai che tutto andrà per il meglio in vero ancora oggi dice Rengel in vero sto ancora oggi aspettando che questo avvenga ho voluto accennare a questi episodi argomenti particolari e delicati sui quali avrei potuto soprassedere per non suscitare dubbi sulla veridicità dei fatti avvenuti cioè lui è consio che parlando così può dare a esca a qualcuno e dire ma allora sono tutte frotte anche quello di prima ma mi sono prefisso di narrare anche questi aspetti delle vicende riguardanti la macchina di Majorana aspetti che solo poche persone a me vicine conoscono e spero che ciò contribuisca a mostrare che esistono uomini mossi di fede e volontà tese solo a far del bene a costo di sacrificare tutti i loro effetti come ha fatto Ettore Majorana lui è convinto sempre che in qualche maniera venendo a mancare lui la cosa andrà avanti scusate ma secondo voi scusa Alfredo ma secondo te ma che opinione possono farsi quelli che ci stanno ascoltando quando sentono parlare di entità non mi interessa lui l'ha scritto e lui lo porta avanti lo so che l'ha scritto me l'ha detto però guarda guarda che questo è un messaggio che lo sappiamo l'ha detto lui lo so ma ma è un messaggio assolutamente negativo per quello che si è negativo l'ha voluto mettere perché ha i suoi intendimenti siccome siccome questa storia è la sua storia è lui che l'ha vissuta in prima persona è lui che vuole portarla avanti e lui dice questo l'ha tirato fuori all'ultimo momento e l'ha voluto mettere lì come pitratombale è lì e se ne assume la responsabilità non sono io posso andare con una domanda Luca chiede con un semplice approccio sintetico ed epistemologico com'è possibile collegare la sintropia con l'antimateria di cui si serve la macchina di Majorana Rino non so qui dovreste dovreste chiederla a un fisico non a un giornalista c'è tutta una storia c'è tutta la storia sulla base precedente sulla storia è dovuta a Fantapie che è stato un matematico favoloso qui in Italia che ha scritto dei libri la sintropia e l'antropia al riguardo che sono si può andare nel tempo c'è tutta una storia per il particolare della finalità solamente dei fisici e ci sono scritte con formule matematiche queste due cose io non posso parlare perché non sono un fisico e non ho competenza al riguardo ma però c'è tutta una casistica al riguardo io farei rispondere all'ingegner Giuseppe Ticchi in tal proposito perché tu Giuseppe l'argomento non è dei più semplici l'entropia la sintropia io vi dico francamente faccio ancora fatica oggi a capire questi argomenti nel senso che se devo ripetere la formuletta il modulino ci impiego dieci secondi è capire veramente cosa c'è dietro soprattutto quando poi si parla di insiemi di particelle di insiemi di simmetria Prigogine ha vinto è stato premiato con il Nobel negli anni 60 70 ma voglio dire ha solo aperto una via una via che è da percorrere tutta qui parliamo di energia parliamo veramente di concetti che non sono semplici da comprendere un conto è ripetere quasi mnemonicamente delle versioni dei postulati andare poi a capire i meccanismi che possono regolare ci sono infinite soluzioni ma è quello che poi si dice la fisica quantistica cosa studia le infinite combinazioni che noi possiamo avere nell'evoluzione della materia a riguardo vorrei fare un piccolo accenno alla particella di Majorana che lui ancora non ancora trentenne teorizza l'antimateria l'antineutrino con una caratteristica che va contro alle affermazioni di Fermi Fermi e Dirac mi sembra vale a dire che l'antineutrino è identico al neutrino questo significa che nel momento in cui si incontrano si annichiliscono senza generare energia questo viene scoperto da un americano adesso non ricordo nel 2001 il quale stabilisce sancisse che la teoria di Majorana degli anni trenta era vera quindi dopo quanti anni Giuseppe? voglio dire settant'anni 70 passanti ma soprattutto a me viene da intuire è un intuito mio da animale preistorico col mio cervello ancestrale che potrebbe essere anche alla base dell'evoluzione della macchina è un'intuizione Giuseppe ricordiamo non c'è niente passaggio criptico soltanto due parole per sintetizzare guardate che il Politecnico di Milano negli anni scorsi un paio d'anni fa aveva fatto una commissione che avrebbe dovuto studiare la macchina di Rolando Pelizza e io ho parlato con questi docenti era un gruppo di tre docenti più un esterno e loro sostenevano ovviamente che è inverosimile è impossibile che esista una tecnologia di questo genere fino a quando un bel giorno è stato invitato Rolando Pelizza io ero presente Rolando Pelizza si è presentato davanti a questa commissione ha raccontato la sua storia ha detto come funzionava la macchina perché e i professori sono rimasti veramente di stucco nel senso che non si aspettavano una persona che rispondesse in questo modo così preciso alle loro domande ma soprattutto ha provocato molta come dire molta perplessità il fatto che io abbia presentato perché l'avevo l'esito di una un'analisi fatta su una lastra di acciaio che era stata forata dalla macchina di Pelizza ebbene questa lastra di acciaio è stata analizzata ed è venuto fuori che oltre all'elemento acciaio di cui era composta si erano presentati all'analisi fatta da una delle maggiori società italiane di questa materia dodici elementi diversi dodici minerali diversi al che la cosa ha stupito moltissimo beh la commissione si è chiusa lì la cosa non è andata avanti quindi è stata bloccata praticamente dopo il discorso di Pelizza e dopo l'analisi di questa lastra analizzata quindi questo può avere un significato scusate Grino grazie di questa tua precisazione io vorrei rilacciarmi a un discorso dell'ingegner Ticchi perché proprio alla conferenza che è stata organizzata a Pavia il professor Recami ha fatto un inciso molto importante molto importante e ha messo una pietra e ha chiuso tutte le polemiche che si stavano accendendo in quella giornata dicendo che la fisica che ha appunto studiato e aveva percorso Majorana negli anni 30 oggi come tu hai detto giustamente Giuseppe sarebbe stato premiato con un premio Nobel a distanza di 70 anni proprio perché lui era arrivato 70 anni fa a questa scoperta e questo Recami ha messo così a tacere tutte le discussioni anche dei soloni che erano presenti in quella conferenza che si sono permessi di alzarsi in piedi e dire delle stupidaggini benché fossero dei titolati professori universitari e Recami con la sua pacatezza e con la sua esperienza grandissima e con la sua grande scienza ha messo a tacere tutto la fisica di oggi sta cambiando è questo che è il messaggio che deve passare e questo veramente ci ha fatto tanto piacere noi conosciamo adesso la storia dell'antineutrino ma chissà quante altre cose poteva aver intuito già negli anni 30 che noi scopriremo magari tra 20 anni o 30 noi questo non io tu starei qua con noi Alfredo ma non io a proposito c'era anche la domanda sul cagnolino però si adesso stavo cercando altre domande scusa stava finendo no no niente volevo dire appunto che una mente come era stata una mente di Majorana Ettore come era stata giudicata da Fermi stesso era sicuramente una mente al di fuori non solo al di sopra ma al di fuori delle capacità che noi possiamo riconoscere ancora oggi e questo con questo può dare infinite spiegazioni a quello sul quale noi stiamo dibattendo vuoi perché è sparito vuoi perché si è voluto ecclissare vuoi perché ha voluto si è ecclissato per continuare a studiare in pace per poter evolvere ulteriormente tutto quello che lui stava intuendo e capendo quindi per arrivare a un qualcosa a protezione dei suoi timori lui non solo era un grande cervello ma era sicuramente un grande uomo un grande uomo di umanità e questi studi l'hanno portato o sicuramente dovevano portarlo a un qualcosa a protezione dell'umanità e adesso stiamo parlando di una macchina stiamo parlando di un'esperienza di un uomo che pur non avendo una cultura scolastica aveva delle capacità che Ettore ha saputo scovare in questo Rolando Pelizza per portarlo a dei livelli tali per cui fossi in grado di produrre un qualcosa che servisse per l'umanità e siamo ancora qui a parlarne c'è una domanda interessante di un signore che è un programmatore sistemista dice che se non ho solo i dati ma anche le formule per poterle tradurre in algoritmi attraverso dei linguaggi di programmazione e poi in programmi software non si potrebbe fare nulla quindi in parte le formule matematiche dovevano essere state trasferite per conoscenza anche al professor Tralamazza altrimenti non avrebbe potuto fare nessun programma è vero? Alfredo cosa dici? io so solamente questo se dovevo andate anche a a Tralamazza carissimo a Bicò io lo conosco benissimo sono stato decine e decine volte a casa sua assieme con Rolando l'ho seguito non solo io lì avrò lì dieci ore di ho filmato registrazione di Rolando che assieme a Tralamazza lavorano sul computer a riguardo tanto per dire quindi in teoria quello che chiede il signore è esatto no? no io rispondo rispondo con quanto dice Majorana riguardo proprio in realtà che riguarda mai saputo intanto io faccio anche altre domande perché comunque sono sul tema se cercheranno di fare della retroingegneria solo sulla macchina hardware non ne verranno a capo perché manca la parte più importante che ad oggi non è stata pubblicata altre poi vabbè qui è un ringraziamento anche a Rino Di Stefano con questa notizia da una nuova luce di speranza io però mi sono persa nel discorso non so che cosa si riferisce esattamente a qualcuno che ha prodotto che ha prodotto la macchina sì probabilmente a quello beh anche a qualcuno all'interno di Spazio Tesla a questo punto molto vicino a Spazio Tesla quindi rimanete in sintonia con Spazio Tesla perché ne sentirete delle belle certo torno a ripetere che io mi baso sempre sulle lettere di Majorana perché per me le lettere di Majorana hanno delle finezze all'interno spiegano certe cose che per me che conosco questa storia è un piacere leggerle mi arricchisce sempre di più ci sono dei particolari che io forse perché lo seguo veramente favolosi c'è una lettera del 93 Rolando Pelizza è tornato dopo 11 anni 11 e più anni che era all'estero e in questi 11 anni lui ha mandato una sola lettera a Majorana perché collegamento tramite la sua segretaria infatti quello dice ho avuto la lettera tramite in questo tempo ho ricevuto tramite i miei missari e la tua fedelissima saletaria una sola missiva dove mi descrivevi le tue difficoltà e il tentativo di realizzare da latitante la macchina con l'intenzione di terminare la terza fase poi va avanti ho seguito passo a passo tutti i particolari che gli hanno portato alla trasformazione dell'88 cioè lui ha trasformato lì la prima volta la materia in oro mi dici che tutti questi calcoli li hai fatti assieme al professor Carlo Tralamazza svizzero di Berlizona professor di matematica e di informatica qui si domanda adesso Majorana fa una domanda non avendo più avuto la possibilità di metterti in contatto con me infatti per 13 11 anni non è stato in contatto con lui mi hai sostituito con i suoi calcoli e si domanda come hai potuto usufruire di programmi fatti da lui secondo le tue descrizioni con un calcolatore che non contiene nulla della nostra matematica la grande capacità di Rolando Rolando non solo ha imparato la fisica ma ha imparato anche un'altra matematica che non è la nostra matematica l'ha imparato da Majorana e ha avuto la grande capacità in un anno a immettere i computer che non sono adatti non hanno la capacità di ricevere la nuova matematica di Majorana e ha potuto raggiungere la terza fase dopo che sia possibile farlo in qualche altra maniera come dice quell'esperto non so dire il riguardo ma io vorrei dire che appunto qui andiamo nell'interpretazione personale perché il professor il professor Recami quando ha letto quelle lettere e soprattutto quella indirizzata a lui quella del 2000 lui sostiene sosteneva e sostiene che la calligrafia è quella ma l'uomo così come l'ha conosciuto lui scusate non vorrei non vorrei essere frainteso intendo dire il personaggio come lui l'ha conosciuto perché lui ovviamente ha fatto delle ricerche libro di Recami tanto per dire il caso Majorana è il miglior testo in assoluto che ci sia sulla biografia di Ettore Majorana e quindi secondo le conoscenze che il professor Recami ha avuto di Ettore Majorana lui sostiene che chi ha scritto quelle lettere non ha nulla a che vedere con il Majorana che ha conosciuto lui posso risponderti un attimino per dirti il mio parere è certo ma te l'ho detto diventa una questione di pareri personali posso dire il mio parere però un parere che ho già espresso anche a Recami che qua è stato molto bravissimo è stato mi ha aiutato moltissimo e ha dato la prefazione al libro che è un libro che deve essere letto perché merita di essere letto però lui dice io l'ho spiegato anche a lui il perché è diverso Majorana due motivi Majorana se accettiamo quanto dice Rolando Pellizza è rimasto 40 anni e più in un convento dove vedeva il silenzio più assoluto e tranquillità non c'era contato con l'estero con l'esterno scusate un momento poi prima roba lui era più abituato non aveva contatti se no con Rolando Pellizza raramente quando andava giù ultimamente non si vedevano neanche perché è stato 13 anni via seconda risposta che ho dato cioè gli ho posto un altro quesito e gli ho detto tieni presente che le lettere scritte da Majorana che risponde a Rolando Pellizza usa lo stesso stile e riporta le stesse cose che le ha dette Rolando e infatti in una lettera dice anche ti ripeto queste cose che tu mi hai detto per il semplice fatto che un domano le potrai utilizzare perciò lui usa lo stesso impianto stilistico ripete quasi le stesse frasi che usava lui terza cosa fondamentale Majorana quando scriveva è vero quando scriveva ufficialmente ha scritto impeccabilmente in modo perfetto ma io sono andato a trovare e l'ho parlato anche con il professor Recami due cose innanzitutto lui c'è la sua prolusione al corso di fisica l'ultimo scritto di Majorana che esiste è quando lui nel 38 inizia fa la prolusione al corso di fisica ebbene il testo della questa prolusione scritto da Majorana porta delle correzioni e porta degli interventi perché dal punto di vista italiano perché aveva trovato che quello che aveva scritto prima era sbagliato e ha modificato e lì c'è il testo che lui riporta non solo l'ultimo l'ultimo soscritto prima di sparire nel 38 è stato il lavoro sul valore delle leggi statistiche e le paragoni tra la fisica e le scienze sociali in questo testo che lui ha inviato che lui ha inviato allo zio Giuseppe che risponde su volta Majorana all'interno porta 12 ci sono all'interno 12 errori che lo zio lo zio gli scrive a Majorana e dice guarda che tu sbagli a scrivere in questa maniera perché perché è un conto scrivere ufficialmente un testo che va al pubblico ora viene limato mentre in un testo che viene fatto tra persone che si conoscono alla buona alla buona succede che cosa si scrive come capita con qualche anche svarione qualche errore tra l'altro ho detto al professore Cammi guarda anche tu che mi hai mandato delle mail era in confidenza con me mi ha scritto parecchie volte ha avuto la cortesia e la ringrazio tanto di rivedere anche il mio libro e mi ha dato anche dei consigli al riguardo l'ha detto tutto e mi ha fatto un grande piacere e mi ha trovato anche degli errori che avevo fatto al riguardo tu mi scrivi delle mail e trovo dentro degli sbagli perché li scrivi in fretta ma le mandi lo stesso ho fatto Majorana con Orlando Pelizza non deve star lì a scrivere in punta di penna avrebbe deciso questo è il mio parere benissimo andiamo un po' alla conclusione Adolfo dice a proposito proprio dell'esperimento del 1976 al CNEL che oggi è Enea si potrebbe oggi ci sarebbe oggi la possibilità di far ripetere questa perizia da parte di un ente statale come l'Enea erede del CNEN o da parte di un dipartimento universitario o di una istituzione scientifica privata anche fuori d'Italia allora Rino direbbe sì ma ci vuole la macchina non lo so quindi se volete dare una risposta ci vuole la macchina e ci vuole colui che la gestisce ecco perché ci vuole colui che la gestisce vogliamo entrare in un particolare della macchina è il discorso del software è il discorso del software cioè soltanto soltanto Rolando Pelizza riesce a far funzionare quella macchina ok soltanto lui ma non è solo una questione di software pare che ci sia anche un rapporto pare che ci sia anche sì come dire un'interazione 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 tra la macchina e l'operatore almeno questo è quello che appare io di queste cose cioè preferisco sfumarle perché come dire vanno contro la nostra logica e quindi però so benissimo che la tecnologia di cui parla Rolando va appunto è al di fuori della nostra matematica è al di fuori della nostra fisica per cui bisognerebbe studiarsene queste cose e noi in questo momento non lo possiamo fare vorrei aggiungere soltanto un'ultima cosa visto che siamo in chiusura visto che abbiamo parlato di prove si è parlato molto delle lettere e non si è parlato molto delle foto ora le foto che Rolando ha fornito sono state periziate dall'ingegnere Michele Vitiello di Brescia che tra l'altro è titolare di uno dei più rinomati studi in Italia di questo settore è venuto fuori che inequivocabilmente le foto che aveva fornito Rolando e quindi foto come dire sconosciute paragonate alle foto classiche che abbiamo di Ettore Majorana negli anni 30 sono inequivocabilmente della stessa persona e questo è tantissimo da un punto di vista delle prove ma loro siamo qui ha fatto benissimo a portare questa testimonianza e a precisare il lavoro fatto da Vitiello dunque quanto noi stiamo raccontando e Rolando ha raccontato e lui ha avuto veramente dei rapporti con Majorana ecco questo è il fatto che poi come l'abbia incontrato se abbia fatto 1300 chilometri ogni volta o ogni 15 giorni o ogni mese come si trovavano fra di loro non possiamo dirlo perché sono cose anche particolari rimane il fatto che ci sono dei fatti e ci sono delle testimonianze delle prove allora io direi con la collaborazione di Alfredo Ravelli di Rino Di Stefano che ci forniranno ufficialmente i disegni e le fotografie i disegni tecnici della macchina come Spazio Tesla con la nostra sezione di ricerche cercheremo di mettere insieme questa macchina e poi eventualmente di chiamare Rolando per metterla in moto davanti a tutti questo ok questo bisogna fare presto Alberto devi soltanto chiamare il tuo amico ingegnere e tu te la porta già montata dopodiché chiami Rolando tra l'altro scusate ancora non ne abbiamo parlato in questo momento nessuno sa dove si trovi Rolando Pelizza perlomeno possiamo intuirlo ma non lo sappiamo e sta mancando ormai da un periodo cioè è un periodo veramente lungo non è mai stato assente per tutto questo tempo l'unico motivo per cui io non sono preoccupato è perché almeno una volta alla settimana parla con la famiglia devo dirti innanzitutto è giusto quello che tu dici è stato lontano è lontano ormai da quasi quattro mesi va bene ci ha detto dove andava perlomeno a me me l'ha detto dove andava anche a me l'ha detto va bene non solo ma non è la prima volta perché lui è stato assente anche sei mesi abbiamo la tranquillità che i parenti ma lui ha detto che andava via per qualche giorno si lui dice sempre così lo sappiamo benissimo che dice sempre così come dice sempre tocchiamo questo argomento perché è particolare no 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 lasciamo stare lasciamo stare siamo tranquilli perché giustamente ho parlato a famiglia siccome io chiamo sempre la Fedora chiamo anche il figlio Paolo ci parlo assieme loro sono tranquilli lo sentono tranquilli la Fedora siccome che è la moglie che è la moglie la Fedora che è la moglie era abituata quando è stato all'estero 13 anni ogni giornata lui telefonava a casa lei sapeva riconoscere dalla voce se c'erano problemi o non problemi proprio per vivendo assieme sapere dice che è tranquilla stiamo tranquilli anche noi ben sapendo che speriamo che torni e che vada tutto bene allora intanto un messaggio per Negri un saluto dalla campagna un messaggio per te Alberto Alberto Negri sei un grande ottima idea mettiamo in rete i disegni della macchina di Mario Rana Dario Messina ci sono già poi però c'è qualcuno che dice pubblicare gli schemi di istruzioni per fabbricarla non servirebbe a nulla ma insomma poi potremmo andare avanti così però c'è una domanda che io poi invece vorrei rivolgere all'editore perché mi sembra giusto ogni tanto sentire anche Giorgio Mentegari perché c'è una domanda riferito a questo allora intanto vogliono fare i complimenti a Roberto fa i complimenti a Di Stefano a Ravelli e poi dice per l'attenzione sul caso Majorana e una domanda siete a conoscenza di vicende che Pelizza e il biografo cugino Ravelli non hanno ancora divulgato allora intanto mi rivolgo mi rivolgo ovviamente all'editore perché è sicuro certo che è una bella domanda ma anche perché lascia spazio chiaramente alla pubblicazione di un altro libro presumo beh diciamo che sicuramente siamo a conoscenza di altre vicende abbiamo contatti con Rolando io stesso ne ho pochi ma quando riesco così come Alfredo così come Rino cioè chiunque di noi anche solo per affettività verso Rolando cerca di potergli parlare capire quale sia la situazione poi a volte Rolando si lascia sfuggire alcune novità che però come giustamente diceva Rino prima chi vuole bene a Rolando e conosce magari qualcosa in più vede in questo momento di tenercele un po' per sé ma una piccola indiscrezioncina proprio no? una dai una cosa che non sia pubblicata su almeno finiamo la trasmissione in bellezza io posso non so quanti dei vostri ascoltatori e dei nostri ascoltatori di adesso abbiano avuto la fortuna di incontrarlo dal vivo ricordo quella sera a Pavia di settembre Rolando non era in splendida forma vi ricordate che insomma non erano giorni molto buoni come stato di salute in realtà io da quando lo conosco cioè vi assicuro sembra che per lui il tempo non passi cioè lo vedo sempre più forte ogni volta che lo vedo e quindi un po' come lui io non ho nessun timore per il suo futuro oggi lo vedo sempre serenissimo e sicurissimo di quello che sta facendo e questa è la cosa che mi conforta di più sì ma la indiscrezione qual è? la indiscrezione è che lui secondo me sta molto bene che non passano gli anni che vivrà se non passano gli anni cioè quindi lui ha scoperto l'elisir di lunga vita e non passano gli anni però direi che posso chiedere posso dire una cosa proprio perché siamo veramente in chiusura quindi fermo restando che faccio faccio tesoro di quello che ha detto Rino per quanto riguarda e ho capito di chi sta parlando di quale ricercatore sta parlando punto due ricordavo ancora perché lo stiamo ospitando sulle pagine di Spazio Tesla dei trattati del professor Recami che nel 1975 76 il professor Recami quando era a Derice organizzò a Derice un congresso sulle sui tacchioni sulle particelle superluminali quindi in tempi non sospetti si parlava già di fisica che io la chiamo la fisica di Star Trek e questo gli costò per la sua udacia la cattedra all'Università di Trapani questo me lo confidò proprio nella sera di 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 Pavia il 21 di settembre ebbene ci troviamo ritorno e risottolineo di fronte a un passaggio un cambiamento epocale che potrebbe come ha detto Recami quel giorno me lo ricordo bene quello che non è vero oggi sarà vero domani quello che Majorane diceva 70 anni fa si è rivelato poi oggi come diceva l'ingegner Ticchi verità tant'è che è arrivata poteva arrivare un Nobel sicuramente un Nobel gli poteva arrivare per la scienza a proposito invece dell'elisir di lunga vita allora un'altra domanda confermate la vicenda del cagnolino dei monaci dove era riparato Majorana ringiovanito e filmato dai satelliti dei servizi statunitensi la cagnolina Alfredo eh sì Alfredo la cagnolina c'è io preso ma era cagnolino o cagnolina acqua cagnolino 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 ringiovanito quando dice Rino Di Stefano che io ho dei vincoli è davvero vincoli che ho preso spontaneamente e mantengo cioè io mantengo quello che ho stabilito con Rolando Rolando mi ha detto non parlare oltre il 92 perché non è il momento poi mi ha fatto la sorpresa di buttare dentro delle lettere di rivenimento del 2006 va beh l'ha fatto lui la sua storia e fa potrei dire altre mille cose al riguardo non le dico prima di tutto bisogna documentarle già non credono a queste cose qui che sono documentate e portate e supportate da documenti cartacci da testimonianze da persone viventi che hanno visto da perizie eccetera e non ci credono per non tanti non ci credono per lo meno la scienza ufficiale non ci crede e non si muovono al riguardo è inutile andare a tirare fuori altre cose che potrebbero ancora creare dei problemi posso aggiungere una parola? posso aggiungere una parola? sul cagnolino Rino sul cagnolino il discorso è questo quello che sta dicendo Alfredo è che entrambi e forse non soltanto noi conoscevamo tutta la storia del cagnolino eccetera che era stata ripresa da un satellite eccetera eccetera così come sappiamo anche di altri esperimenti il problema è soltanto che nessuno di noi Alfredo perché è tenuto in quanto biografo io come giornalista ma anche come essere umano non intendo danneggiare ulteriormente Rolando Pelizza facendo rivelazioni che potrebbero come dire creargli un sacco di problemi quindi certe cose non le diciamo per questo motivo ci sarebbero delle cose che sono accadute ovviamente sono accadute tante cose dal 92 in avanti molte cose e anche abbastanza serie però fino a quando non verrà il momento fino a quando non ci sarà per quanto mi riguarda devono esserci soprattutto le prove perché io so quello che è accaduto ma devo avere della documentazione per poterne parlare così come ho fatto fino ad oggi perché io oggi fino ad oggi ho parlato soltanto di cose di cui avevo la documentazione tra l'altro devo dire che per quello che riguarda il passato di Rolando molta documentazione mi è stata fornita dallo stesso Alfredo Ravelli è il suo archivio è l'unico esistente oggi sulla vita di Rolando Pelizza quindi noi certe cose le sappiamo le sappiamo ma non le non le vogliamo dire per non danneggiare Rolando Pelizza può darsi che un giorno magari come dire cadranno certe remore o la situazione sarà tale che si potrà parlare di queste cose qui sei stato perfetto bravo hai detto benissimo ascolta io aggiungo l'ultima cosa poi non so se vorranno dire qualcosa tu sai che io ho fatto un po' di studi di teologia e c'è una sequenza in una messa che dice è una sequenza è il diesire diesilla dice niente rimarrà nascosto prima o dopo verrà tirato fuori e verrà mostrato e verrà il tempo anche per le nostre cose che verranno tirate fuori queste cose e verranno mostrate aspettiamo solamente il momento il momento opportuno soprattutto che ce lo dica il protagonista fondamentale che non lo danneggi che non lo danneggi allora noi la macchina la mettiamo lì e aspettiamo Rolando che la venga a mettere in moto davanti agli occhi di tutti anche se non ci sono gli scienziati ma sicuramente agli occhi del mondo questo è l'impegno che ci prendiamo sarebbe uno spettacolo eccezionale ci siamo presi l'impegno che quest'anno per Spazio Tesla grazie a te grazie ad Alfredo grazie a tutti quelli che hanno collaborato anche al primo congresso la Roberta Rio l'ingegnere Alessandrini l'ingegnere Michele Vitiello sarà l'anno di Majorana e siamo arrivati una svolta noi ci crediamo ci crediamo speriamo siamo arrivati allora in conclusione noi davvero non possiamo far altro che ringraziare gli ospiti perché hanno dato un contributo veramente importante io mi auguro che sia stato anche qualcosa di interessante dove magari possono essere uscite anche delle cose se non proprio nuove però perlomeno dei pareri e dei concetti che possano far riflettere portare avanti questo interesse nei confronti della fisica di Majorana della persona di Pelizza con la speranza che possa vivere veramente a lungo perché tutto è ovviamente in mano sua e quindi noi ci auguriamo che davvero Spazio Tesla possa realizzare questa macchina e chi lo sa magari con Rolando Pelizza finalmente con Rino Di Stefano presente chiaramente poter riuscire a fare che potrà documentare che potrà documentare che potrà documentare concludiamo Laura concludiamo dicendo che sicuramente ci siamo presi il presidente ufficialmente ha preso l'impegno di costruire la macchina e poi speriamo appunto che Pelizza si faccia vivo torni e che il discorso dell'interazione uomo-macchina anche Serino dice che ancora è una cosa fantascientifica però in certi ambienti pare che l'interazione uomo-macchina sia già l'operatore uomo-macchina sia già attuata quindi io ho fiducia in questa cosa e quindi speriamo che si possa realizzare anch'io da canto mio ringrazio tutti che avete contribuito a questa puntata che Rita mi viene da dire che potrebbe essere la prima di una serie magari che andare ad accompagnarci siamo a gennaio alla fine del 2019 sicuramente avremo modo anche di ospitare ancora il dottorino Di Stefano Alfredo Ravelli l'editore e anche perché no magari anche Rolando stesso chissà telefonicamente almeno via scavita via scavita non si sa va bene grazie ancora a tutti anche da grazie a voi grazie a voi grazie buona serata a tutti grazie ai numerosi ascoltatori che sono intervenuti ciao a tutti ci sono tante domande tante risposte che sono state date potranno continuare anche sulla pagina Facebook di Spazio Tesla a continuare a porre delle domande e poi cercheremo in qualche modo di contattare i diretti interessati per delle risorse ricordiamo che questa puntata comunque è stata registrata e verrà poi resa fruibile per essere riascoltata e per ascoltarla chi non ha potuto essere in diretta questa sera e quindi ci sarà modo sicuramente di ampliare il discorso grazie mille buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti